Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola Eccomi qua, vi sono mancata? Anche io, io lo so, vi manco sempre, vorreste vedere a ogni pranzo, a ogni cena Però io vi vengo a trovare a pranzo alle 13.20 prima del Tg per fare una ricetta insieme a voi E oggi che cosa si fa? Oggi si va di primo, si fa degli spaghetti con i carciofi e le mandorle Che ho leggermente tostato per fare uscire tutti gli oli essenziali Intanto ho messo l'acqua e io butto gli spaghetti Perché l'acqua è pronta E poi si procede Prendo allora il... Un po' di aglio Si prende i carciofi Che si va a pulire Metto i guanti perché sennò le mani diventano nere, lo sapete, eh? Il carciofo Allora tolgo un po' di ingredienti di qui Se no E via via Ecco qua Si toglie le foglie più... Più dure Intanto Si gira la pasta Ecco qua Si prende lo spelucchino I gambi Ci potete fare il brodo Quando li pulite, lo sapete, non si butta via niente Ci si fa anche un risotto Qualcosa Opa! per te prendo questo coltello non mi taglia ecco qua, facciamo anche questo così intanto metto questo, l'olio è caldo, l'abbasso un po' così gli spaghetti stanno cuocendo e si va a mettere intanto il si toglie qui le spine, quelle più grosse e il il baffo a ciofi ma così ecco anche questo così poi mi solgo di mezzo queste cose perché mi danno fastidio devo andare a pulire le cipolle, a tritare le cipolle ecco qua e questo si soglie intanto si mette i carciofi qui si prende una cipolla la cipolle 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 ma prendo un altro po di cipolla si rialza il fuoco cipolla aglio si va a spremere l'aglio io prima trisavo l'aglio a mano ma con lo spremi aglio si fa troppo meglio si prende il peperoncino fresco e si va a mettere anche questo ok eccoci qua poi si prende i carciofi intanto si gira si fa abbassire si fa prendere un po di colore la cipolla all'aglio e al peperoncino e via via ci si va a mettere i carciofi ok A presto. 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 I carciofi, si prende un po' di pecorino, scaglia di pecorino, prima le mandorle già, si mette le mandorle, un po' di olio, un seleno, l'olio della Hop Bono e delle scaglie di pecorino, un po' di pecorino toscano, ci sta bene anche il cacio ricotte, però io in casa avevo il pecorino e... eccolo qua, il piatto è pronto, io fossi in voi proverei a rifarlo perché mi sa che merita, comunque vi do appuntamento a domani, alla solita ora, segnatevelo le 13.20 prima del TG, per fare una nuova ricetta, qui da Villa Guicciardini passo e chiudo, ma prima di tutto il che si fa, si va a tavola! Ciao a domani! Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola!